Sapevate che esiste un modo per vendere casa a prezzo pieno e anche in tempi brevi? Ciao sono Sabrina e oggi parliamo di home staging. Home che? Home staging. Home, casa, staging, allestimento, messa in scena. È una tecnica che serve per preparare al meglio la casa per accogliere i futuri acquirenti. Ripate letti, mettete i cuscini, candele. Non è soltanto fare ordine e decorare, si tratta di rendere accattivante l'immobile tramite che fate i siti? No, le foto che facciamo sicuramente aiutano la visibilità sui portali, ma perché si lavora sull'immagine degli spazi, enfatizzando in al massimo le potenzialità per una ristrutturazione. L'home staging non è invasivo, non tocca la struttura della casa e no, non si tratta neanche di interior design. L'home staging è una vera e propria strategia di marketing, il cui scopo è facilitare la vendita o la locazione degli immobili. Questo avviene perché se ne cura immagine e presentazione. Nella pratica sono degli allestimenti temporanei, come delle scenografie, mirate a rendere la casa accogliente e attraente. Il tutto è completato da un servizio fotografico professionale, perché immagini a regola d'arte contribuiranno a far spiccare il vostro immobile tra i tanti sul mercato, attirando così l'attenzione di chi sta cercando casa e portando un maggior numero di click sull'annuncio. Più click significa più visitatori e più potenziali acquirenti. Ecco che il processo di vendita viene accelerato. Vendere prima vi farà risparmiare tempo e denaro. Perché aspettare ancora quando esiste già la chiave giusta? Grazie a tutti!